buongiorno dottore buonasera medica guardi e c'è un problema anche tre o quattro ha provato a cambiarsi vestiti ecco non ci aveva pensato provi bene 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 gli occhiali è una persona senso dove c'è la congiuntivite cosa si fa tutti tutto su pugnosa qui c'è chi bene e poi la comando in vento guardano un vento tocca a tutti dottore c'è la congiuntivite vai c'è una cazzo dottore sono giuntivite più che può più che si troviccia è meglio la sensibilità di un figlio ma è che si fa un segno di domanda che si alimenta ma fa malo orecchio per la comunità dottore c'è un lato dottore buongiorno dottore sono sempre ma un dottore c'è un l'acqua madonna un orecchio mi dà noia come fa come fa